Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola Una calorosa buonasera a tutti i nostri ascoltatori oltre alla bocciatura della proposta della Serie A sul blocco retrocessioni il Consiglio federale ha anche decretato lo stop definitivo al campionato di Serie A femminile la decisione verrà illustrata nelle prossime ore Parla Pantaleo Corvino, Milenkovic e Pezzella hanno molto mercato per il serbo abbiamo in passato rifiutato una grande offerta da un top club inglese quindi non mi meraviglierei se il Napoli fosse interessato a loro Nella lista dei calciatori dalla valutazione più alta a cura del Cies per quanto riguarda la Fiorentina ci sono in fila Chiesa con una valutazione di 40,9 milioni Milenkovic 32,7 Cutrone 24 Lirola 19,2 e come fanalino di coda anche Castrovilli la cui valutazione è uscita tra i 10 e i 15 milioni per fiorentina1.com Riccardo Barlacchi